Il Twerk Out Team Il Twerk Out Team di Lucianina, ma niente da fare. Si vota, sì di Matano, Littizzetto e Bisio. Si li dice non solo perché credo non sia una performance da quattro sì. Passano il turno. Questa edizione di Italia's Got Talent sta stupendo più delle altre in quanto ad originalità delle esibizioni, come ad esempio questo team di twerker professioniste non si era mai visto, almeno in Italia. Grazie a tutti.